Ciao a tutti ragazzuoli belli e ben ritrovati sul canale di Pippo Quarto. Finalmente si torna a registrare qualcosa di nuovo e per fortuna stanno rientrando dalle vacanze tutte le fanciulle che hanno fatto crescere questa pagina, grazie anche al vostro affetto. Poiché sono stato costretto a cancellare oltre 300 video e tra questi ce n'erano parecchi di Daniela, diamo soltanto un po' di info a chi ancora non la conoscesse. Daniela ha 43 anni, quindi già parliamo di una bella maturona, ed è laureata in psicologia. Si è diplomata all'Accademia di Stefania D'Alessandro che ovviamente non sappiamo nemmeno chi sia, e dopo aver frequentato diversi corsi di specializzazione presso altre scuole, diventa truccatrice e comincia ad operare subito nel mondo della moda, del cinema e dello spettacolo. Inoltre si occupa di moda e lavora presso una tv locale, che come potete vedere è telea. Quella di Daniela Troisi è la storia di una passione che si è trasformata in professione, un giorno qualunque ha scelto di stravolgere la sua vita eppure la nostra, visto che ogni volta che la vediamo su quello sgabello siamo costretti a correre in bagno. Il suo mondo le andava stretto ed ha capito che è raggiunta l'ora di afferrare le redini del suo destino e cominciare a domarlo, e abbiamo ragione di pensare che non sia stato l'unico ad essere domato. Ricordiamo che Daniela è stata una delle single di Temptation Island VIP, edizione che fu presentata dalla stupenda ed affascinante Alessia Marcuzzi. Su Instagram condivide spesso scatti della sua vita, in cui il primo posto è senz'altro occupato da sua figlia. Il suo è lo stile della classica mamma amica. Non trascura un'altra delle sue più grandi passioni da sempre, il canto, che per diversi anni è stato anche il suo lavoro, e la conduzione. È stata in Kenya come inviata per una trasmissione sul turismo ed è stata un'esperienza eccitante. Ragazzuoli belli anche questo video è finito. Grazie mille della visione e arrivederci al prossimo appuntamento. Siamo certi che il Napoli era ed è stata la prima.